In un momento così delicato va bene tutto, stiamo a casa, mi raccomando rispettiamo le regole, però non condividiamo fake news su Facebook, Instagram. Prima di scrivere qualcosa accertiamoci che sia vero e non stiamo lì a ripostare qualsiasi link così sospetto o proveniente da quei soliti siti che lasciano il tempo che trovano. Ciao, ciao, ciao.